Il 9 novembre 1989 io vivevo in Svizzera sulle Alpi Bernesi in un collegio internazionale dove insegnavo principalmente tedesco nel sistema americano di questa scuola tedesca in suolo svizzero che includeva pure il sistema americano. Era una scuola che si trovava facilmente nei testi di pedagogia insieme ad altre scuole perché portava avanti un principio pedagogico particolare e di valore. Quello di non essere troppo coinvolti nelle cose mondane, quindi si mirava a una vita semplice, genuina, senza i vari fronzoli e orpelli del mondo con tutta la sua smagna di commercializzazione. Questo lo dico per spiegare il fatto che noi in un certo senso vivevamo un po' fuori dal mondo. Certo che alle 8 di sera chi voleva poteva andare a vedere alla televisione svizzera il telegiornale, cosa che comunque io non facevo perché tanto le notizie importanti arrivavano comunque. Le informazioni di servizio come pure le notizie importanti venivano date alla fine dei pasti. Di solito era uno studente che leggeva le notizie e le leggeva sia in tedesco sia in americano. In casi particolari era un insegnante. E quel giorno dopo che le notizie, quelle normali, le informazioni diciamo così di servizio, erano state lette, prese la parola Will, un insegnante, e lesse la notizia. Ovvero che il muro di Berlino era caduto. Non posso dimenticare l'emozione che ho provato e il silenzio che è seguito. Nessuno parlava, nessuno si muoveva e tutti stavamo lì. Infine Will disse che chi voleva saperne di più alla sera si poteva andare a vedere appunto le notizie e quindi ci ha congedato. Nei giorni a seguire i vari giornali tedeschi parlavano ampiamente della questione, della situazione e ci furono anche diverse vignette simpaticissime. Fra cui una che mi ricordo in particolare dove si vedeva questo mino che addirittura dalla gioia piangeva e gridava Ich bin frei! Ich bin frei! Sono libero! Sono libero! Poi una vignetta successiva lo rivediamo, li fermo, con aria pensierosa, decisamente stranito e la vignetta successiva lo vediamo abbattutissimo che dice Hilfe, aiuto! Questo evento e questa vignetta la riporto perché mi ricorda tantissimo quello che succede alle persone su un percorso di crescita che non sia quella crescita per modo di dire che è solo coreografia senza reale sostanza a cui la maggior parte partecipa. Quegli altri, quei pochi che io vi ho già chiamato più volte i pratijeka buddhas oppure i buddha solitari sono già arrivati oltre al penultimo punto, quello del successo personale, quello per cui ci si sente di valore solo se gli altri ci applaudono, sono appunto andati oltre nel senso che si accorgono che a loro proprio non può interessare di meno questa storia del successo personale perché anche a essere di successo non sentono la gratificazione a cui l'anima sta puntando, non è quella roba lì che fa felice l'anima. Dunque cosa? Così ci si mette un po' a girovagare cercando delle risposte, cercando delle vie e intanto si eliminano via via tutti gli orpelli la vita di questi buddha solitari diventa sempre più sobria ma non per scelta ascetica, proprio perché corrisponde il cibo diventa più sobrio le persone con cui ci si intrattiene sono più sobrie le attività che si intraprendono sono più sobrie e infine a furia di vagare si arriva a percepire che ci si sta approcciando a una nuova dimensione interiore dove ci si trova davanti grandi distese di spazio libero dove non c'è nessuno se non magari qualche sporadico chiamiamolo pellegrino qua e là in lontananza un senso di apertura infinito un senso di libertà infinito un senso di essenzialità infinito e come l'omino nella vignetta c'è un'apertura del cuore infinita e c'è esultazione Dio ma che bello, ma che roba stupenda e guarda, era qui a portata di mano e gli altri non si accorgono di niente sono davvero in un'altra dimensione e davvero non possono capire così ci si avventura in questo spazio si cercano i segnali la segnaletica ma di segnaletica non c'è si cercano strade ma di strade non ce ne sono dunque si cammina un po' di qui un po' di là cercando di capire come orientarsi finché ci si rende conto di essere arrivati nella terra dove tutto è possibile dove ogni strada siamo noi che la facciamo non esistono strade predefinite esiste solo la nostra scelta che ci porta a incamminarci su una strada che via via creiamo come la nostra vita ci si rende conto della vastità delle infinite possibilità l'esultanza interiore è al massimo poi piano piano proprio come l'omino nella vignetta ci si rende conto dell'immensità che abbiamo davanti e del fatto che non sia a disposizione una bussola predefinita proprio perché nemmeno le direzioni sono predefinite e quindi lo sconcerto e aiuto che si fa ora è la bussola interiore la bussola personale interiore che determina se un qualcosa che vogliamo raggiungere è giusto per noi a prescindere da quello che prima avremmo pensato come giusto l'allineamento con la percezione della propria coscienza è fondamentale è il vero timone che ci permette di stare e di mantenerci sulla frequenza della fiducia che è una leggerezza interiore spaziosa e a questo punto le parole del sutra del cuore diventano di vero significato e guida la forma non è diversa dal vuoto il vuoto non è diverso dalla forma la forma è essa stessa vuoto il vuoto è esso stesso forma tutte le cose hanno le caratteristiche del vuoto non nascono né muoiono non sono né contaminate neppure non aumentano né diminuiscono nel vuoto non c'è forma né percezione né concetti né volontà né consapevolezza non c'è saggezza né l'acquisizione della stessa nell'assenza di bramosia si libera la mente nella trascendenza oltre 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 al di là di tutto completamente oltre o illuminazione ti riverisco mi inchino davanti a te gatte gatte paragatte parasam gatte bodhi svaha il sutra il sutra del cuore che è brevissimo ma estremamente denso illustra la dottrina della vacuità come chi è in fondo alla valle non vede l'orizzonte aperto che ha di fronte a sé colui che è sulla cima della montagna lo stesso accade per la comprensione reale profonda intima di concetti spirituali e chi è in fondo alla valle deve scalare la montagna per arrivare a vedere la vastità dell'orizzonte perché dal fondo della valle non si può vedere l'orizzonte quindi ci sono percorsi obbligati da fare perlomeno quando ci si incarna nell'esperienza umana appunto qui sulla terra prendendo a riferimento la piramide dei bisogni di Meslow ci sono tutte le tappe del percorso da realizzare prima di arrivare all'ultimo punto quello della realizzazione spirituale della trascendenza essere a questo ipotetico ultimo punto della piramide di Meslow non significa però essere arrivati la vita è infinita ed eterna ci sono molti mondi da scoprire in cui andare a incarnarsi ma finché siamo qui sulla terra i Buddha solitari dovranno imparare a mantenersi sulle frequenze dell'anima lasciando andare la personalità e in questa leggerezza spaziosa mantenere una fede determinata perché la determinazione fiduciosa è il timone che ci porta dove vogliamo andare all'anima